C'è un modo speciale, unico e diverso per scoprire l'Abruzzo. La guida A-Tour offre un approccio attivo, dinamico e integrato al turismo, in una regione ricca e inesplorata. Seguirla sarà come trovare la rotta giusta verso la vacanza ideale. Acquistando la guida A-Tour darai un sostegno alla Fondazione I Fiori del Bene e alle sue iniziative. Grazie a tutti.